È morto all'improvviso, nella tarda serata di lunedì 13 luglio, Alfredo Malcarne, presidente della Camera di Commercio di Brindisi e presidente nazionale di Assonautica, era appena tornato a casa da un viaggio di lavoro quando ha accusato il malore. All'arrivo del 118 Malcarne, purtroppo, era deceduto, stroncato da un infarto. Aveva 59 anni. La notizia è subito rimbalzata sui social, lasciando sgomenti e attoniti tutti coloro che lo hanno conosciuto. E alla triste notizia, subito, hanno fatto eco i messaggi di cordoglio, di ricordo e di vicinanza alla famiglia. Ieri mattina parlavamo di progetti, pensavamo assieme a come dare un contributo culturale alla nostra città, scrive il sindaco Rossi su Facebook. Oggi, la notizia della morte di Alfredo Malcarne spezza quel filo che ci proiettava insieme verso un bene superiore e comune. Sono vicino alla sua famiglia, alle sue bimbe e a sua moglie. La notizia della morte di Alfredo Malcarne è terribile, scrive il deputato Mauro Dattis. Ci legava a una profonda amicizia e un amore smisurato per la nostra terra. E' andato via in silenzio, con la stessa discrezione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Anche il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, ha espresso dolore e sgomento in una nota per la morte di Malcarne. E poi i messaggi, tanti, di chi con Malcarne ha diviso tanti anni della sua vita. Come per esempio l'ex sindaco Mimo Gonzales, siamo stati compagni di giochi, colleghi, studenti e abbiamo condiviso battaglie, tante, per difendere la sua camera di commercio. Buon viaggio amico mio. Crescono ora dopo ora sui social i messaggi per ricordare Malcarne. E a questi si aggiungono quelli di Canale 85 e del gruppo editoriale distante, che si stringe attorno alla famiglia Malcarne per la grande perdita.